La parzelletta di Geppo! C'è stata una vecchietta a letto con la febbre molto alta Allora che fa? Prende e telefona al dottore Il dottore risponde e fa pronto? E dall'altra parte la vecchietta fa Dottore buongiorno, sono la sora Teresa Non mi sento tanto bene, ho la febbre alta E il dottore fa, ah capisco Senta ma le battono per caso anche i denti? La vecchietta fa, aspetti un attimo che guardo No no no, so fermi sul commodino Che schifo! La speglia dei gladiatori Dimensione Suona Roma